mi fa impazzire il modello, è proprio bello è questo modello con il fiocco davanti che si può legare o lasciare libero e non so quanto rende dal video sembra tipo a poix però in realtà sono dei mini rombi che sembrano appunto dei poix è di questo bellissimo colore pesca pesca beggiolino insomma un colore molto neutro e sembra quasi satinata purtroppo il materiale non è proprio il top del top però comunque non è male cioè non è plasticoso né nulla semplicemente sto dicendo paraganata agli altri capi questo forse è quello un po' più la camicetta è molto bella molto elegante io ho un debole per le camicette con il fiocco mi piacciono davvero tanto le trovo super eleganti e di classe e niente quindi questa è la camicetta parliamo sempre di rifiniture molto precise cioè abbiamo per esempio in questa camicetta abbiamo i bottoni foderati vedete? vabbè, ce la posso fare bottoni tutti foderati e poi abbiamo addirittura una piccola clip che si chiude qui per non mostrare nulla insomma che si chiude qui per non mostrare nulla